Io non entro in un'aula dell'università da marzo 2020, dall'inizio della quarantena non sono mai più tornato in presenza. Non è ancora chiaro quando né come sarà organizzato il ritorno in aula per gli studenti universitari. Unige nei giorni scorsi ha avviato sondaggi tra gli studenti per capire in quanti siano favorevoli e disponibili a tornare in presenza e quali siano le strade più praticabili. A settembre 2020, inizio dell'anno accademico in corso, alcuni dipartimenti avevano percorso la via delle lezioni in presenza con capienza ridotta su prenotazione. Non è stato un successo. Non dipende tanto dall'organizzazione secondo me, è proprio che questa pandemia richiede delle restrizioni che non si possono conciliare con la didattica in presenza. La didattica a distanza ha quindi accompagnato i studenti, scelta necessaria, ma con molti limiti. Il quadro è molto vario, con più o meno problemi, a seconda delle facoltà. I più penalizzati sono naturalmente le matricole. Ho sperimentato diversi metodi a distanza, lezioni live, altre registrate, slide. Devo dire che per esperienza sta molto, sta quasi tutto in realtà alla predisposizione del docente. Tu hai iniziato l'università quest'anno, quante lezioni hai fatte in presenza? Allora, noi nel primo anno abbiamo fatto le prime due settimane. Ci hanno mandato le prime due settimane, che ovviamente sono state poche, pochissimo, perché non ci siamo abbiendati zero, non abbiamo conosciuto nessuno. Vi sentite penalizzati? Tantissimo, soprattutto per una facoltà scientifica, perché il confronto con gli altri è straimportante. Non cambiano solo le lezioni, ma anche gli esami. Innanzitutto, molti di quelli che prima erano scritti sono diventati esami orali. Quasi tutti sono stati, diciamo, trasformati in esami orali, la maggior parte. Anche le materie più scientifiche, come matematica. Oltre allo stress dell'esame in sé, hai anche lo stress di tutta la parte che viene dopo, ovvero il dovere mandare i file il giorno che non c'è connessione, piuttosto che problemi tecnici. Anche i professori li mettono un po' a disagio questo dover organizzarsi in maniera diversa. E poi farli da casa, anche lì manca il confronto con gli altri compagni che magari può aiutare in quel contesto pre-esame. Anche i professori. Anche i professori. Anche i professori. Grazie.